Siamo alle battute finali del concorso di Forza Pescara.tv, fai gol e vinci e approfittiamo dell'occasione per dare a Fabio, uno dei vincitori, il premio che con la sua competenza, anche un pizzico di fortuna, ha conquistato. Ringrazio per il premio, bellissima maglia e vorrei cogliere l'occasione per salutare gli amici con cui venga lo stadio la domenica, che sono Roberto, Giustino, Stefano e soprattutto Vito La Fratta, da Bisent. Ed ecco qua la maglia di Sansovini, sempre Forza Pescara. Sempre, un ringraziamento a voi che ogni volta ci informate sul vicendo del Pescara Calcio. Grazie a voi che ci seguite così tanti. In conclusione, una battuta sul campionato appena concluso e cosa ti aspetti da questo calciomercato? Allora, mi aspetto abbruscato. Abbruscato soprattutto, è un giocatore che mi piace un sacco e poi mi piacerebbe, diciamo, di poter vedere presto la Serie A. E allora, per la prossima edizione di Fai Gollo e Vinci, magari sarai a vincere non la maglia di Marco Sansovini, ma quella di Abbruscato. Magari, quella di Abbruscato, sì. L'anno prossimo la riuscirò.